Quando l'incontro tra scuole e aziende del territorio dà i frutti sperati, è targato Università Europea del Design, il restyling del logo della storica cantina abruzzese Casaltaolero, che ha sede a Ortona. Il progetto, nato dall'esigenza di riqualificare l'immagine aziendale, ha visto coinvolti gli allievi del terzo anno del corso di grafica, che hanno lavorato per l'intero anno scolastico sulla case history, proponendo nuove idee di marchio, di corporate e di etichette. Contento del lavoro svolto, si è detto Angelo Bacile, presidente di Casaltaolero. Con la creatività degli studenti, ha detto Bacile, vogliamo riportare la nostra regione e tutti gli appassionati di vino a parlare di Casaltaolero, come una cantina che ha dato lustro ai vini abruzzesi e continua ancora oggi. È un marchio nuovo che abbiamo pensato di rifare, anche perché Casaltaolero è uno dei marchi più prestigiosi, che ha cominciato a vendere vino nei primi anni 61 ed esporta in quasi tutti i 30 paesi del mondo. Casaltaolero ha devoluto all'istituto una cifra pari a 3.000 euro per premiare i ragazzi più meritevoli. L'Università Europea del Design di Pescara, ha detto Maurizio Lepore, preside dell'istituto, cura la formazione dei giovani da 32 anni nell'ottica di renderli abili professionisti e operare con successo nei campi della comunicazione pubblicitaria, del design di interni e della moda.